A partire dalla serata di ieri 2 giugno dalle ore 22 la piattaforma ha aperto alle adesioni alla campagna vaccinale anche ai cittadini della regione campagna dai 12 anni di età in su. Le relative convocazioni nei prossimi giorni sono ovviamente legate alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta, fanno sapere dall'unità di crisi regionale. Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer. Continua dunque senza sosta la campagna di vaccinazione in Campania. Il dato aggiornato alle 17 di ieri 2 giugno 2021 è il seguente. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.360.437 cittadini. Di questi 1.054.650 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 3.415.087 Grazie a tutti.